E' già operativo nei comuni di Montefino, Castiglionme e Serremondo lo screening di massa anti-Covid-19 che l'Asla di Teramo ha organizzato insieme ai 47 sindaci dei comuni del territorio provinciale, Regione Abruzzo, Protezione Civile Regionale e Ordini Professionali. Lo scopo è quello di scoprire quanti più soggetti positivi al Covid che non presentando alcun sintomo non si accorgono di aver contratto la malattia e quindi sono potenzialmente in grado di infettare tutte le persone con cui vengono a contatto. E' un modo per interrompere la catena dei contagi, dichiara il direttore generale dell'Asla Maurizio Di Giosia. Oltre ai circa 200 ricoverati ci sono più di 4.700 persone in isolamento domiciliare, numeri che rendono difficile effettuare il tracciamento di tutti i contatti. Lo screening di massa è un'ottima occasione per tutti i cittadini che possono controllare il proprio stato di salute e nel frattempo dimostrare grande senso civico aiutando le istituzioni nella lotta al coronavirus. L'Asla di Teramo ricorda che lo screening è gratuito, è un'azione volontaria ma più che mai opportuna. Si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo rapido, in grado cioè di dare un risultato in poco tempo. Lo screening è aperto a tutte le cittadine e i cittadini residenti o domiciliati di età superiore ai 6 anni. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido. All'accettazione inoltre bisognerà compilare un modulo di consenso. Entro tre ore dal test, in caso di risultato positivo, le persone riceveranno una chiamata da un operatore sanitario al numero di telefono indicato sul modulo stesso. Se entro tre ore non si riceve nessuna chiamata, vuol dire che il tampone ha avuto esito negativo. Ogni comune allestirà delle postazioni dove verranno effettuati test rapidi. Le località esatte e gli orari saranno pubblicati sul sito web di ogni comune dove i cittadini potranno reperire tutte le informazioni necessarie.